continua continua fa tutto il giro si sa che fa tutto il giro però di là non si riesce più a andare tieni mi stai riprendendo che bastardo hai capito ora un videoporno vabbè adesso devo scendere occhio ai vetri anche delle ginocchia sporche l'abbiamo fatta stefano vuoi venire anche tu? vieni steve vieni sicuro ma guardate no cartoline cartolè di come era una volta guarda però ha ragione l'Ale che c'è il ponticello con la cascatella guarda pazzesco ragazzi è pieno di cartoline scusa ma vita e pensiero vita e pensiero rivista di vita spirituale febbraio 1949 hai visto? sì gennaio 49 e questo libricino mamma mia ma quanta roba mamma mia ma quanta roba guarda che storia questo è tutto appiccicato mamma mia che storia poi ti voglio vedere scendere ma no io la farò dire mi sa cosa servivano queste tavolette guarda 1982 letture ma no qua qua c'è roba ancora più vecchia ma questi erano tutti libri di preghiera no no che non vendevano perché questa sera alla biblioteca no la usavano loro sicuro che storia però penso siano tutti uguali sì questo era un tavoletto non ho capito cosa facevano anche queste tavolette non ne ho proprio però questa come va quella lì era grande vedi guarda qua sì ci sono anche una tascata col ponte non l'abbiamo vista non l'abbiamo vista l'Ale diceva appunto che l'aveva vista da google è su quella la sala che diceva prima guarda quante tavolette quantunque o entra acqua perché tutto marcia vabbè ma chissà la quanto è chiuso sto posto non sai da quanto è abbandonato no devo ancora studiare la storia di questo posto altra tavoletta siamo a 500 metri qua si guarda qua tutte cartoline si tutte cartoline del posto io provo a stare da qualche tipografia è pieno mamma mia qua è tutto mercito probabilmente guardare le scatole era questa questa è caduto cavolo si della struttura anche qua guarda vedi la ci sono tutte le scatole si va con il fender no 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 lì forse non è il caso di andare è rischioso ma anche perché questo scaffale è caduto si ma sono le stesse si sono le stesse che ci sono qua probabilmente queste qua erano su questo scaffale e poi hanno tirato giù lo scaffale vedi andi qua in questa porta che hanno allora là in fondo il murato lo abbiamo dopo questa è vuota questa è vuota e poi c'è un bel po' di sedie ma beh questa è un'aula si sicuro la mano o la sala conferenza ma tieni qua sì però forse è di un olivo che si è prestiti tutti urbex eh può essere patrizia c'è anche il mio nome il mio nome non l'ho scritto io eh per forza è appena arrivato in prossima perché poi sai iniziamo a dare la colpa è un'altra aula questa questa è un'altra aula sì è piena di sedi sì c'è sempre il il pancchetto no c'è a casa no vediamo se riusciamo a andare di là si è aperto qui wow bello figata è molto buono figata forse si riesce da qua sopra da qualche parte si arriva alla chiesa sì anche se che bello bello sì qua abbiamo i bagni infatti ok vediamo qua allora qua abbiamo ancora i bagni e questo e questo che cos'era tipo un anche qua un di postiglio passiamo all'ultimo piano questa è tutta la parte esterna del santuario che è sono sul balcone questi bagni 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 bagno 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 bagno